Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo una cosa diversa, proviamo se vi piace. Via! Batteria elettrica o idrogeno? Spieghiamo dove si trovano attualmente i vantaggi di... La decisione del gruppo Volkswagen è chiara. In quanto produttore di grandi volumi, si sta concentrando su auto elettriche a batteria per le masse. Anche se Volkswagen Group Research sta continuando a esplorare la tecnologia delle celle a combustibile e Audi, ad esempio, ha annunciato una piccola scala veicolo a idrogeno per il 2021. L'inversione di tendenza nella mobilità, tuttavia, deve avvenire in grandi volumi, per motivi di protezione del clima e dei soli accordi di Parigi. In pochi anni, la Volkswagen intende vendere più di un milione di veicoli elettrici all'anno. Non sono affatto contro l'idrogeno come mezzo di accumulo di energia. Dovremmo semplicemente utilizzarlo dove ha senso, e non è nell'auto. Numerosi paesi dipenderebbero dall'importazione di idrogeno rigenerativo per produrre auto a idrogeno in grandi quantità, il che difficilmente sarebbe possibile nel prossimo futuro. Inoltre, la soluzione all'idrogeno è in definitiva anche più costosa della versione a batteria a causa delle elevate perdite di energia. L'idrogeno sarà molto probabilmente usato soprattutto in veicoli con elevate prestazioni di guida giornaliere. L'auto normale per applicazioni medie sarà molto probabilmente sarà un'automobile a batteria in futuro. Di conseguenza non ci sono svantaggi ambientali. Lo studio è stato condotto per sei mesi, accompagnato da 80 persone. Lo studio analizza innanzitutto i motivi dell'acquisto. Perché i clienti dovrebbero passare alle car? Lo scenario più probabile al momento è un modello a due fasi, secondo lo studio, la fase push e la successiva fase pull. Nella fase di push da oggi al 2023-2025, i produttori promuoveranno la mobilità elettrica. Le ragioni principali di ciò sono i rigidi standard di Co2. A ciò si aggiungono i costi di investimento inizialmente elevati. Entrambi questi fattori significano che devono essere impostati incentivi all'acquisto per portare le auto elettriche sul mercato. Nella successiva fase di pull fino al 2030 e soprattutto fino al 2035, le e-car diventeranno anche più interessanti dal punto di vista finanziario per i clienti. L'introduzione della norma Euro 7 renderà i motori a combustione più costosi e il delta dei prezzi di acquisto diminuirà. Questo sviluppo è anche rafforzato dal fatto che una tassa sulla Co2, comunque che guarderà in dettaglio, renderà i combustibili fossili ancora più costosi. Allo stesso tempo, molti clienti riscontrano il vantaggio in termini di costi di consumo rispetto alla benzina e al diesel come molto positivo, più forte nei paesi con prezzi dell'elettricità inferiori rispetto alla Germania. Questo vantaggio in termini di costi è integrato da minori costi di manutenzione, poiché le car ha meno componenti rilevanti per l'assistenza come filtri olio e benzina rispetto a un motore a combustione, sono necessari meno interventi di manutenzione e riparazione. E, i costi per i cambi di olio e lubrificanti sono completamente eliminati. A seconda del modello, lo studio mostra che i costi del carburante sono inferiori di circa 400-600 euro e i costi di servizio compresi tra 200 e 400 euro all'anno. Un vantaggio di prezzo da 600 a 1000 euro in soli 12 mesi è molto interessante per i consumatori. Paura dell'angoscia e ricarica rapida Gli autori dello studio sono convinti che entrambi questi problemi saranno risolti e non inibiranno più l'espansione delle e-car nella fase e-pool del 2023-2025. Le gamme aumenteranno, più punti di ricarica, inclusi punti di ricarica rapida, ridurranno al minimo la paura di rimanere bloccati. Infine, si discute dell'effettivo risparmio di CO2, poiché l'elettricità utilizzata per produrre le auto elettriche è ancora sporca, almeno non ecologica ovunque. Oggi un'auto elettrica ha uno zaino relativamente grande quando viene prodotta. Gli studi calcolano che consente di risparmiare più CO2 di un motore a combustione solo dopo oltre 100.000 km, produzione e funzionamento. Secondo lo studio, anche questo cambierà a favore delle auto elettriche nei prossimi anni. Più elettricità verde nella produzione di auto elettriche e batterie ridurrà gradualmente questo zaino iniziale e l'auto elettrica farà risparmiare di più CO2, più rapidamente. Le cosiddette pause oscure nel funzionamento a batteria. La calma oscura indica il momento in cui l'elettricità non può essere generata a causa dell'oscurità e o della calma. A tale scopo, il fabbisogno di energia primaria della batteria è stato aggiunto al corrispondente requisito aggiuntivo. La parte più interessante dello studio rimane, quale energia ha la migliore efficienza ed è la più economica per guidare le auto elettriche? Funzionamento a batteria o idrogeno? Con le auto elettriche a batteria, solo l'8% dall'energia viene persa durante il trasporto prima che l'elettricità venga immagazzinata nelle batterie dei veicoli. Quando viene convertita l'energia elettrica utilizzata per guidare il motore elettrico, si perde un altro 18%. Ciò conferisce all'auto elettrica a batteria un livello di efficienza compreso tra il 70 e l'80%, a seconda del modello. Con l'auto elettrica a idrogeno, le perdite sono significativamente maggiori, il 45% dall'energia viene già persa durante la produzione di idrogeno attraverso l'elettrolisi. Di questo rimanente 55% dall'energia originale, un altro 55% viene perso quando l'idrogeno viene convertito in elettricità nel veicolo. Ciò significa che l'auto elettrica a idrogeno raggiunge solo un'efficienza compresa tra il 25 e il 35%, a seconda del modello. Per completezza, quando si bruciano combustibili alternativi, l'efficienza è ancora peggiore, solo il 10-20% di efficienza complessiva. La conclusione è chiara, le caracelle a combustibile hanno molti vantaggi, autonomia, rifornimento rapido, nessuna batteria pesante a bordo, ma uno svantaggio decisivo, è relativamente inefficiente, sia in termini di efficienza che di costo. Nessuna economia sostenibile può permettersi di utilizzare il doppio dell'energia rinnovabile per guidare auto a celle a combustibile anziché veicoli alimentati a batteria. L'idrogeno poteva essere utilizzato solo in nicchie, camion e autobus per lunghe distanze. Qui il peso della batteria, l'autonomia e il tempo di ricarica svolgono un ruolo decisivo. Aumenta estremamente con l'aumentare della capacità, il che rende le batterie poco interessanti anche per i camion. Inoltre, le stazioni di rifornimento di camion esistenti potrebbero essere convertite in una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno con uno sforzo gestibile a causa del loro numero inferiore. E cosa ne guadagna il consumatore? Ciò che è chiaro è che le auto elettriche a idrogeno diventeranno sempre più costose da guidare rispetto ai veicoli a batteria, non solo in termini di acquisto, ma soprattutto anche in termini di funzionamento. Il WPF ha bisogno di energia primaria dei veicoli alimentati a idrogeno rispetto ai veicoli alimentati a batteria. Si rifletterà nei prezzi al consumo. I conducenti stanno già pagando da 9 a 12 euro per 100 km per le auto alimentate a idrogeno, ma solo da 2 a 7 euro per 100 km, a seconda dei prezzi dell'elettricità nei singoli paesi, per le auto elettriche a batteria, a seconda delle diverse persone e abitudini di mobilità. Ciò dovrebbe chiarire ciò che la maggior parte dei consumatori acquisterà in futuro. Ragazzi per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un mi piace, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, ciao e al prossimo video.